ciao a tutti ragazzi dal vostro gabomen oggi un'altra partita nella modalità my club facciamo una partita a casaccio vediamo un po chi ci capita dai su forza veloci oggi non c'ho tempo da perdere ragazzi dai chi sei fatti vedere eccolo qua jlrn 352 ma che è incarcerato vabbè oggi giochiamo contro i carcerati ragazzi dai allora schema di gioco subito subito vediamo un po allora questo c'ha cavani mcg di fabbigno fernandez torres zimling sissoko joao afo non so chi è walter samuel e rowe vabbè e il portiere è kawashima se non sbaglio vabbè niente male direi c'ha una bellissima squadretta con quel cavani là davanti a real madrid non ci starebbe neanche male a real madrid un giocatore del genere ok cominciamo subito eccoci qua con i consigli di gioco uno meglio dell'altro questo mi rifiuto di leggerlo vediamo il prossimo che cosa ci dirà eccolo qua è meglio come sento premi quadrato per tirare grazie del consiglio ancora non l'avevo capito ragazzi figuriamoci vabbè ho scelto questo bello stadio perché mi ricorda lo stadio olimpico è molto simile ma non è lo stadio olimpico non vi preoccupate non correte il rischio ed eccoci qua cominciamo subito la partita la palla è mia batto e si parte ragazzi facciamo subito il nostro classico giropalla ma vedo che c'è campo e avanzo con silva vai col giropalla 1 1 2 veloce palla dentro niente prima occasione presa da questo portierone chiamato kawashima ma passiamo altrove eccolo qua che attacca con cavani ma cerco di recuperare palla provo al tiro la recupero con tiaco silva e me la porto avanti e cerco di partire col contropiede daglie pastore daglie pastore facciamo scattare ovelar e cerchiamo di fare subito il primo call ma tiro in porta fuori a posto niente di che ancora un'altra azione ragazzi ovelar la lancia per pastore il quale cerca un'imbucata vediamo un po niente da fare anche questa è stata chiusa adesso cerco di recuperare palla ma che ha fatto ovelar mamma mia questo mi sa che è fuori gioco si infatti ragazzi c'è ovelar che stava facendo la break dance quindi figuratevi vabbè avanti allora eccolo qua uno scatto da parte di mccarty un 1 2 rapidissimo pastore ovelar pastore ancora uno scambio mccarty il tiro eccolo qua 1 a 0 bellissimo ragazzi e siamo sull'1 a 0 ok il nostro avversario carcerato ribatte subito la palla e cerca di farsi avanti per cercare di pareggiare ma non mi sembra molto attivo per il momento eh andiamo ancora avanti eccolo qua con Cavani tenterà la botta parata per fortuna da Neuer meno male va Neuer si incazza si fa sentire giustamente ma Cavani ha tirato una bellissima pezza eh calcio d'angolo al 22esimo minuto vediamo un po cosa succede lo batte proprio Cavani e mamma mia per fortuna che Montari la butta via e faccio ripartire un contropiede sempre col solito mccarty che lancia ovelar un po' isolato lì davanti vediamo un po' se riesca di imbucare ma eccala te pareva ma chiuso benissimo maulella ma chiuso eh non si sa chi sia va benissimo 25esimo minuto e riparte con il giropalla questo giocatore ma gliela recupero immediatamente cerco di servire ovelar che lì davanti è sempre isolato come al solito vediamo se mccarty riesce a fare un imbucata no mi conviene andare verso l'esterno e crossare vediamo un po' il colpo di testa di ovelar ma viene parata da kawashima un nome una garanzia ragazzi si riparte walter samuel maulella sissoko lancio per cavani che la stoppa no la prende vertonghen con tutta tranquillità e montari riparte passaggio per pastore 1 2 rapido con ovelar che gioco di gambe ragazzi ma la perde no non la perde era fallo per me se non mi sbaglio eh vediamo un po' è fallo mio perfetto allora questo giocatore kombarov avendo una bella pezza io adesso provo a tirare così vediamo un po' taglie eccolo guarda che tiro eh oddio mio mamma mia fuori di pochissimo eh che tiraccio che ho fatto vabbè trentunesimo minuto e kawashima se la ribatte dal fondo vediamo un po' che cosa combina questo portierone la recupero subito con mccarty che avanza guardate che scatto provo un passaggio ma che è fuorigioco non è fuorigioco ragazzi non è fuorigioco tento il tiro parata eccolo mccarty ammazzano ha fatto un altro e che è oh questo oggi fa 8 gollo si è lanciato proprio di testa vabbè 2 a 0 meglio così ragazzi si riparte questo eccolo qua che si incazza ma lo riesco subito a chiudere e riparto con mccarty che ho fatto mamma mia oddio mio levamo buttamo via sta palla eccolo qua silva riparte guardate che scatto lancio 1 2 per alberg bellissimo vediamo un po' finta di tiro tiro col sinistro è un passaggio al portiere che ringrazia e rinvia rapidamente verso i suoi giocatori ma la recupero con alberg e provo ancora una volta un 1 2 pastore bellissimo vediamo un po' che riesco a fare niente ma chiuso con rowe che non so chi sia non ne ho la più pallida idea recupero palla ancora una volta guardate quanti 1 2 che scambio pastore sono davanti al portiere tira parata che parata e guardate la mccarty un'altra volta di testa stava a fare un altro con lui uguale a prima va bene 41esimo prova a ripartire in contropiede con il falso torres che la dà a cavani il quale allunga per mac gidi che si butta sulla fascia vediamolo un po' oddio oddio porca miseria questo me la butta dentro mamma mia per poco vabbè niente ragazzi è finito il primo tempo sono in vantaggio di due reti con il 56% di possesso palla supremazia territoriale di tiri in porta ho fatto 10 tiri 7 nello specchio specchio scusate andiamo a fare qualche cambio vediamo un po' allora direi che Ovelar esce per fare spazio al mitico Teofilo Gutierrez e Derun al posto di Montari visto che mccarty sta barzotto mi basta così iniziamo subito il secondo tempo se non sbaglio dovrebbe battere lui infatti eccolo qua il carcerato batte la palla e cerchiamo subito di recuperargiela o comunque di non fargli fare azioni da reti perché se no eccolo qua chiuso perfettamente Derun il suo primo pallone toccato perfetto giro palla per Richarlison il quale vediamo un po' che fa in buca per Derun bello questo scambio con Combarov che va sulla fascia sgroppa vediamo 70 all'1-2 con Pastore il quale riceve palla ma poi la perde inesorabilmente ragazzi porca miseria riparte ancora lui cerchiamo di chiuderlo qui eccolo qua Pastore recupera palla guardate con che gioco di gambe riesce a tenerla senza problemi anche Combarov si destreggia senza alcun problema ecco qua il giro palla ma Derun perde palla e riparte con Fabinho un contropiede porca miseria cocavani mamma mia fermatelo a questo guardate quanto corre dai dai Vertonghen bravissimo Vertonghen è un grande ragazzi mi piace proprio tanto Derun guardate che alzata che fa per non so chi era comunque adesso palla per Alberg che con l'ultima bustina di fiato in corpo fa uno scatto felino e un lancio che non arriverà mai a destinazione perché Walter Samuel era in anticipo netto sul giocatore benissimo siamo al 55esimo cerchiamo di recuperare palla vediamo un po' se ci riesco niente da fa Tiago Silva contro Cavani la vince Cavani mamma mia ma chi è questo porca miseria ok recuperata con il mitico Manuel Neuer che guardate un po' ha tirato in porta dalla sua porta con le mani e Derun adesso cercherà un'imbucata per Javier Pastore che tenta la sciavatta mamma mia che tiro ragazzi ma Pastore non è sinistro ha tirato da destra vabbè no no Pastore mi sa che è destro boh vabbè non ci interessa comunque ha tirato fuori di poco allora eccolo qua mette in pausa dai sbrigate su bene allora mi metto davanti con Pastore così se riesco a fare un colpo di testa riparte un contropiede rapidissimo ma infatti eccolo qua Gutierrez si destreggia passaggio per Javier Pastore vediamo un po' Pastore che fa ammazza come si destreggia Pastore ragazzi è proprio brava guarda che roba mamma mia tenta il tiro parato parato si distende e quindi niente è andata così il rilancio ancora supremazia territoriale ragazzi me la sto girando tranquillamente sono sul 2 a 0 eccolo qua ancora uno scambio vediamo un po' Albert tiro parata mamma mia quanta azioni sto creando ancora un'altra azione con Derun che scambia velocemente con Teofilo Gutierrez con Pastore eccolo solo davanti al portiere che cosa fa tiro rete eccolo qua un altro gol ragazzi mamma mia sto Teofilo Gutierrez quanto mi piace è bravissimo una cosa esagerata ma è andata bene dai è in 79 ma è in quasi pallone nero ve l'ho detto è veramente bravo nel frattempo il carcerato sta facendo 36 sostituzioni ma recupero palla e Derun cerca di servire ancora via Pastore che guardate come si destreggia lì davanti mamma mia la classe non è acqua ragazzi è gassosa eh niente oh l'ho bruciato si è fermato vabbè rimessa laterale oddio che ho fatto mamma mia oddio che ho fatto ma meno male va recuperata con Vertonghen che tranquillo fa un ottimo giropalla per McCarty il quale si destreggia e cazzeggia per perdere tempo siamo all'ottantaduesimo dobbiamo semplicemente portare a casa questo risultato che ormai è già scontato ragazzi che stiamo a fa che è qua mamma mia vabbè Sissoko adesso un'imbucata ma Vertonghen la chiude senza problemi oddio che ho rischiato porca miseria giropalla Derun alzatina e colpo di testa verso Javier Pastore ancora una volta uno scambio con Teofilo Gutierrez il Siquare avanza si destreggia un passaggio per Pastore ancora solo davanti il portiere tenta il tiro oddio che ha fatto oddio quell'altro ha tirato un carcio alle palle al giocatore del Real Madrid va bene ragazzi mi sa che questa partita l'abbiamo bella che portata a casa ok perfetto ho recuperato palla e direi che questa partita è stata veramente semplice ragazzi ho vinto per ben 3 a 0 non ho avuto problemi vediamo le statistiche 57% di possesso palla ammazza 17 tiri non fatti solo 3 decolle che cavolo Javier Pastore è il migliore in campo ma non poteva essere altrimenti ragazzi ha fatto un partitone se vi è piaciuto questo video ragazzi cliccate su mi piace commentate e iscrivetevi mi raccomando ragazzi e niente il carcerato lo abbiamo fatto fuori vediamo un po' quanti soldi c'è da mi sa che già l'ho visto boh mi ricordo comunque ho 11 punti e sono ancora in settima divisione eccolo qua 3.996 ragazzi per quest'oggi è tutto e vi do appuntamento al prossimo video ciao ragazzi grazie grazie grazie